Ciao a tutti, sono Francesca da Cartomante Europei. Sto rispondendovi dalla postazione di casa mia e di questo voglio ringraziare Monia, la nostra direttrice e anche lo staff tecnico che ci ha consentito di fare questa cosa. Quindi vi volevo dire che noi siamo in linea per voi dalle 7 alle 2 di notte e fra l'altro abbiamo fatto dei pacchetti molto convenienti. Ci potete contattare per qualsiasi cosa per chiacchierare, per sciogliere i vostri dubbi e una cosa mi raccomando stiamo a casa e state a casa in modo tale che il giorno che arriverà in cui ci vorremmo riabbracciare tutti sarà bellissimo e non sarà molto lontano e in più anche per non vanificare gli sforzi veramente sopraumani che fanno le persone, quindi parliamo di medici infermieri per tutelare la nostra salute.